Emanuele Macron, che spartisce la copertina del numero di giugno di Nigrizia con un'immagine dell'Africa, rimanda all'ampio articolo interno sulle sfide africane che il presidente francese deve affrontare nel corso del suo secondo mandato. A cominciare dai rapporti ai minimi storici con il Mali e dall'operazione antijihadista Barkan che raccoglie critiche in tutto il Sahel. La bussola nel numero di giugno è dedicata al viaggio dal 2 al 7 luglio di Papa Francesco nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, due paesi instabili attraversati da conflitti e tensioni che hanno riverberi regionali. Il dossier sul Senegal ha questa volta la veste del reportage e si concentra sulla pesca informale che dà lavoro a 600.000 senegalesi ma che deve fare i conti con i pescherecci di Europa, Cina, Turchia e Russia che saccheggiano l'oceano e riforniscono l'industria di trasformazione. Nelle pagine dedicate alle culture africane gettiamo uno sguardo su cosa è in serbo la 59esima Biennale d'Arte di Venezia. L'esposizione internazionale d'arte in corso dal 23 aprile fino al 27 novembre ospita per la prima volta un progetto della Namibia, A Bridge to the Desert, che racconta fotograficamente la trasformazione di un paesaggio rarefatto e isolato attraverso una serie di sculture antropomorfe. Tutto questo e molto altro ancora nel numero di giugno di Nigrizia. Seguici anche sul sito nigrizia.it e sulle nostre pagine Twitter e Facebook. Per capire e conoscere il continente africano abbonati a Nigrizia e sostieni il nostro lavoro con una sottoscrizione membership.